Ben ritrovati come ogni nuovo inizio, spesso si accompagna qualche bilancio del recente passato ed è con questo spirito che oggi vogliamo prendere spunto da una classifica relativa all'anno appena concluso per poi parlare di uno specifico artista protagonista di questa rubrica. Il riferimento non è tanto alle canzoni più ascoltate o cliccate quanto ai video musicali più ricercati sul web, a stilare la classifica questa volta YouTube Italia. Il mix che deriva dallo scorrere i nomi parte da Sanremo che tra l'altro tra poco tornerà con una nuova edizione e attraversa le stagioni tra melodie pop e ritmiche rap e conferma il legame indissolubile di YouTube con la musica. In cima alle tendenze musicali del 2023 c'è Marco Mengoni con Due vite, il video del brano vincitore di Sanremo 2023 con un record di longevità in classifica YouTube. Da ben 44 settimane si trova infatti nella classifica dei brani più popolari di YouTube su YouTube. A seguire troviamo anche Lazza con Cenere e alle sue spalle Annalisa con Mon Amore, poi via via Mr. Rain con Super Eroi, anche questa da Sanremo 2023, Jolyer come vuoi, poi ancora Havan a Capoplaza con Vetri Neri, ancora Jolyer per caso featuring Sfera e Basta e poi Blanco Mina un bricciolo di allegria. Proseguiamo scorrendo la lista con Angelina Mango, ci pensiamo domani e infine Madame, il bene nel male. Ecco che nella classifica dunque ci sono molti nomi di giovani ma anche quello dell'inossidabile Mina o di Annalisa che ormai è affermata, lei che all'anagrafe è proprio Annalisa Scarrone, cantautrice ligure di Savona per la precisione. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi, infatti è diventata più famosa come cantante solista a partire dal 2011 quando ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e si è classificata a seconda ottenendo il premio della critica, premio vinto anche l'anno dopo tra l'altro ad Amici Big. Successivamente ha preso parte più volte al Festival di Sanremo a cui ci avviciniamo appunto nella categoria Big giungendo nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, poi terza nel 2018 con Il mondo prima di te, infine settima nel 2021 con Dieci. Nel corso della sua carriera finora ha venduto oltre 2 milioni di copie in Italia, oltre ad avere ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali un MTV Europe Music Award, 5 Music Awards, un premio Lunezia, due premi videoclip italiano, poi ancora due Velvet Awards e un premio Mia Martini ed è anche stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell'International Song Contest The Global Sound. Ha anche vinto la 32esima edizione dell'Ogae Second Chance 2018 in rappresentanza dell'Italia. Inoltre è stata anche scelta per rappresentare proprio il nostro paese agli MTV Italia Awards e all'Ogae Song Contest 2013 dove è arrivata terza e ha ottenuto anche 4 candidature ai World Music Awards 2013 e una nel 2015 ai Kids Choice Awards e agli MTV Star of 2015. Insomma, davvero tanti tanti premi e riconoscimenti e l'ultimo in ordine di tempo nel 2023 quando la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le 100 donne di successo in Italia. e allora noi le rendiamo in qualche modo onore ascoltando insieme uno dei suoi brani d'esordio più famosi ossia Scintille che ci porta indietro di 11 anni. Buon ascolto!